Le quattro abruzzesi del girone F di serie D pronte per la sesta giornata di andata. L'Angelini alle 15 arriva il Tivoli. Il Chieti, primo in classifica e miglior difesa del calcio italiano fino a questo momento, cerca un'altra vittoria per allungare e staccare Samb e forse Impronese. Squalificato Serra, Antignani tra i pali dal primo minuto. In attacco Gatto, di nuovo disponibile dopo l'influenza che lo aveva costretto a saltare la gara di Sora. Tornano a disposizione anche Dancora e Mancini, destinati però a partire dalla panchina in difesa a Vesi in ballottaggio con Postiglione. Dubbi a centrocampo di Sabatino e Benigni insidiano Diambo. Chianese intanto aspetta i gol degli attaccanti. Per i neroverdi solo quattro reti segnate, di cui tre su palla inattiva e una su azione. Tra i giocatori del reparto offensivo Gianda di Assegno, Gatto e Fall, arbitra Recchia di Brindisi. Dopo aver piegato Campobasso e Vigor Senigallia, in trasferta l'Aquila torna al Gran Sasso d'Italia contro l'atletico Ascoli che è piazzato in fondo alla classifica con tre punti a braccetto con il Termoli. Arbitra Rodighiero di Vicenza. La scuola di Epifani si è allenata bene in settimana, fatta eccezione per Jonathan Alessandro che non ha ancora smaltito la lesione al flessore della gamba sinistra. Ultima tegola per Epifani le condizioni di Persiani che si è fermato per un'infiammazione al tendine d'Achille. Tutti a disposizione di altri rosso-blu. Avezzano in campo a Riccione contro lo United che ha appena cambiato allenatore affidandosi a Riolfo, ex Vispesaro, per riscattare il K.O. Casalingo contro il Notaresco di una settimana fa. Arbitra Nicolai di Pistoia. I marsicani con Roberti in panchina, in dubbio Pietrangeli, Angelilli e De Silvestro. I rosso-blu terramani invece ospitano il Fano, dirige Testoni, Di Ciampino. Mister Bruno potrà contare su Ragneri e Marrancone, ma anche su Patanè. Ancora indietro Pietrantonio, out in Tinacelli. Novità dal mercato, preso il terzino Zugaro in Serie C nelle ultime stagioni, attualmente svincolato. Potrebbe firmare in giornata ed essere quindi subito a disposizione. Per entrambe le abruzzesi nel Mirino c'è un posto in zona play-off.